Una donna aggredita e un'altra scippata. Due episodi movimentati avvenuti a poche ore di distanza l'uno dall'altro nel quartiere di Saione, dove adesso torna a salire inevitabilmente la tensione. Lo scorso venerdì, attorno alla mezzanotte, in zona Campo di Marte, è stata aggredita la regista retina Francesca Montaini, mentre stava rientrando a casa assieme al figlio 13enne. La donna ha raccontato di aver notato quella notte alcuni movimenti sospetti e di aver deciso così di scattare delle foto, ma a quel punto è stata avvicinata da due uomini di origine africana. La donna sarebbe stata prima insultata verbalmente e poi aggredita fisicamente. Sul posto è intervenuta una volante della polizia, sono scattati così controlli e sono stati identificati i due aggressori accompagnati poi in questura. La regista ha ovviamente presentato denuncia, è stata anche visitata al pronto soccorso di Arezzo, dove le è stato diagnosticato uno stress da aggressione. Ma la scia di episodi violenti nel quartiere Aretino non si è conclusa qui. Lo scorso sabato, attorno alle 22, in via Vittorio Veneto, una signora retina di 62 anni è stata aggredita alle spalle, spintonata a terra e poi scippata della borsa. A quel punto il malvivente, spalleggiato da due complici, ha attraversato di corsa la strada, ma un uomo che si trovava in compagnia della moglie, aveva assistito alla scena, gli si è lanciato addosso un gesto coraggioso che però è costato al cittadino eroe sei punti di sutura allarcata sopra ciliare. L'uomo comunque è riuscito a riconsegnare la borsa alla signora scippata. Il malvivente invece si è dato alla fuga, ma a mani vuote. Sul posto sono intervenuti i carabinieri al momento sulle tracce dello scippatore e dei suoi complici.